Mi risulta che tu in questo momento sia l'acquisto migliore della Vanoli, perché? Cosa è più importante fare nelle prime settimane in cui si crea una nuova squadra? Una squadra ex novo? Fare? Non lo so, fare gruppo? Fare gruppo e mi dicono che tu sei un compagnone. No, diciamo che secondo me la cosa più importante per creare una squadra vincente sia oltre che l'individualità, il gruppo, il collettivo, lo stare insieme. E visto che noi siamo dei privilegiati a fare questo lavoro, credo che al di fuori delle quattro ore in cui svolgiamo gli allenamenti sia molto importante divertirsi e stare insieme. Ecco, su questo mi sono sempre trovato a mio agio. Il più burlone della squadra chi è? Sei tu o qualcun altro? La persona con cui mi trovo meglio e più simpatici tra gli americani, Jeff Ferguson, è molto attivo sotto questo punto di vista. Gli altri si devono, forse perché era già stato in Italia e quindi sa più o meno come sono i compagni. Gli altri sono Nicola May che è un gran burlone. Io ho paura di Nicola May anche in questo momento, infatti l'ho ricevuto. L'annata più bella di quelle che hai fatto come professionista? L'annata latina perché praticamente quando sono arrivato io eravamo un gruppo di disadattati, eravamo ultimi in classifica, un sacco di problemi così. E poi siamo diventati un grande gruppo di amici. Sulla rosa non eravamo assolutamente una squadra competitiva. Siamo arrivati ai play-off quando dovevamo retrocedere. E tra un po' andiamo a vincere gara 3 a Ferentino, che poi Ferentino ha vinto il campionato di B1 ed è ceduto in Lega 2. I giocatori forti con cui ho giocato? Forse l'anno scorso Matt Walsh perché è giocatore da vedere più completo, uno dei giocatori che si impegna di più in allenamento. E' uno giocatore sotto per alcuni aspetti sulla quale ho imparato tanto nel campo perché nonostante non sia tutto forché un atleta, sa benissimo interpretare il gioco ed è bello da vedere anche per i ragazzi che devono imparare a giocare a pallacanestra. Sai che cosa puoi offrire alla squadra? Io sono un giocatore abbastanza versatile, essendo che faccio più dell'atletismo piuttosto che della tecnica il mio punto forte e quindi se c'è bisogno in difesa di marcare un esterno posso essere in grado come se c'è bisogno di marcare un centro sono comunque 2,2 metri per 103-104 kg quindi sono comunque in grado di marcarlo. Poi il mio ruolo naturale è comunque l'ala forte dove mi ritrovo meglio perché l'ala forte è comunque un playmaker aggiunto e su alcune parti del campo mi trovo molto a mio agio. Classe 91, nato il 23 settembre, che regalo di compleanno vorresti ricevere? Ovviamente declinato alla stagione. Ma non lo so, diciamo che questa stagione è tutto un divenire nel senso che può andare benissimo come malissimo nel senso che non si conoscono bene i giocatori, non si conosce bene il campionato sarà un campionato difficile. Il regalo mio più grande sono sicuramente che la squadra si salvi che faccia un ottimo campionato e poi tutto quello che verrà in più sarà sugo che cola. Questo quindi per la squadra e per Giulio Gazzotti? Per me, diciamo che non ho... Una maglietta così, prendimi... No, diciamo che sono una persona che ha... Sono già felice come sono, ho tutto quello che voglio quindi sono abbastanza contento. Ho una fidanzata alla quale voglio bene, ho degli amici, una famiglia quindi faccio il campionato più bello che ci sia, lo sport più bello che ci sia quindi non ho particolari cose da chiedere. Allora, invidiamo molto tutti Giulio Gazzotti che ringraziamo e con cui ci rivedremo presto. Grazie a voi.